ciao a tutti allora nuovo video volantino lidl come potete vedere e avete scaricato l'applicazione con le offerte io l'ho scaricata mi sono registrata e praticamente se in quella settimana ci sono delle offerte ve le indica sull'applicazione voi le selezionate le prendete quanto andate in cassa vi viene applicato lo sconto l'offerta quindi secondo me è una buona cosa è molto facilissimo da installare vogliono chiaramente i dati anagrafici ed è fatta insomma secondo me conviene farla perché poi vi danno anche degli omaggini cioccolatini caramelline insomma roba varia quindi dai è carina come applicazione quindi scaricatela allora vediamo un po se c'è qualcosa di interessante la prossima settimana che dovrebbe essere la settimana in cui mi dovrebbero liberare indipendentemente come va il tampone che ce l'ho lunedì e mi dovrebbero liberare speriamo bene perché non ne posso più ok allora abbiamo le super offerte frutta e verdura carni nulla di particolare offerte del lunedì offerte del giovedì ci sono queste le crocomagie di topolino non avevo mai viste che cosa sono penso che sia delle crocchette tipo di pollo carine poi va bene altre offerte offerte io come sempre mi fermo solo se trovo qualcosa di interessante ecco qui possiamo vedere in questa sezione tutte quelle cose che trovate appunto nell'applicazione che la prossima settimana sono sono in saldo quindi voi andate sull'applicazione selezionate quelle cose che vi interessano quanto ne andate a prendere all'idol dopo alla cassa passate il cellulare mi pare che ci sia un codice barra e queste vele sconta come vedete ci hanno sconti dal 20 per cento in su su varie cosine quindi è una cosa interessante poi british style allora abbiamo non ricordo se avevo mai visto questa tipologia di cibo però abbiamo tutta una serie di prodotti britannici patatine patate arrosto fish and chips arrosto di manzo filetti di merluzzo hamburger di manzo sempre un po cose come si dice fritte un po all'americana uh le caramelle quelle di toffee queste qui le avevamo messe nel periodo di natale che poi non le ho non le ho trovate fatemi vedere buona no questo scusate vi ho detto una cavolata queste c'erano prima di natale perché io ho preso qui la la salsa la cipolla caramellata che è buonissima quindi ci devo assolutamente andare prossima settimana se mi libero se no devo mandare al mio moroso quindi sono curiosa di riprendere quella perché l'avevamo utilizzata sugli hamburger che avevo preso sempre da loro ma adesso li ho fatti in casa scorsa settimana quindi sicuramente quelli fatti in casa sono più naturali e l'ho fatti con all'interno le zucchine ma preso sta gran fissa per le zucchine le sto mettendo un po dappertutto nella pasta in mezzo alle patate nella carne dappertutto non so c'ho sta voglia di zucchine e quindi ho fatto questo impasto di di macinato ho preso avevo preso macinato di tacchino e ci ho messo un po a pezzi grattugiate diciamo la le zucchine e sono venute buonissime e mettendoci sopra questa salsa vi assicuro è favolosa quindi questa la devo assolutamente prendere poi sono curiosa di provare l'arrosto di manzo da magari sostituire ogni tanto all'arrosto sempre l'affesa di tacchino così per variare quindi questa cosa ad esempio mi interessa e poi san valentino a tavola con amore allora di questo vi posso dire qualcosina cuor di pizza l'ho sentita è buona per essere una pizza sorgiolate da forma di cuore molto molto carina poi che avevo preso avevo preso mi sa anche la pasta i cuoricini di patate sarebbero praticamente degli gnocchi quindi classici poi cosa abbia buono al gelato a forma di rosa ma che bello io lo voglio limoncello rosa tovaglioli vabbè qui sono le tovagliette cuoricciose ma che voglio qui ai dolci vi dico la verità non non li ho provati con la verità sono stato molto molto bravo però se riesco andare visto che comunque san valentino viene di domenica per dire potrei prendere la pasta questi cuori di ravioli e far vediamo un sugo in qualche modo e vediamo dai se riesco ad andare vi faccio vedere poi visto che san valentino troviamo una lingerie sexy da donna molto carina la vestaglia io ne ho una però è tutta in pizzo e bellissimo anche il reggisceno quanto mi piacciono da morire quei reggisceni come questi io penso che sia fatto così che hanno il colletto questi un po sexy tra virgolette mezzo sadomaso sono bellissimi c'è poco da dire poi adesso c'è una nuova collezione di intimissimi e sono spettacolari solo che c'è dei prodotti italiani la taglia più grande che si aggira sempre alla quarta alla fine a me non mi va non mi ci stanno le tette quindi potrebbero fare qualcosa un po più conforme però vabbè perché per dire la taglia tedesca mi va bene perché le taglie italiane non possono essere un attimino più conformi alla realtà no sbaglio comunque andiamo avanti idee regalo di san valentino e queste cose se non erro questo loro orologio con il cuore avevo visto anche l'anno scorso ma troppo carino comunque è un orologio sono orologi con bracciale molto molto carini poi abbiamo gli orsacchiotti con la scritta love e poi dei profumi per uomo e donna poi fiori anche fiori per san valentino con tutti i vari cuoricini abbiamo le rose e piantini in cestino a forma di ro di cuore che carine no troppo cose troppo carine c'è poco da fare a me mi piace un sacco belline belline i bulbi in una scatola a forma di cuore anche quella carina cosa ho combinato perché mi fa così sta roba perché spingo chissà perché mi rispondo anche da sola e poi andiamo avanti dunque vabbè prodotti per bambini in offerta prodotti della di pesce in offerta mobili stavolta il legno c'è il legno tutti i mobili sono legno però in color legno volevo dire poi abbiamo tv delle mensoline luci un lampadario robe luminose poi abbiamo questi portafoto molto carini con scritto live l'auto love memories family quest'altra forma di cuore per 7 euro 99 costa veramente poco comunque quindi molto molto carini e poi ci stanno tante foto mi piacerebbe prenderli solo che io sono piena casa di quadri dopo mio amoroso mi ammazza poi abbiamo sta roba qui l'unica cosa che devo vedere devo comprare quando uscirà fuori il trapanino con la fresa che dovrebbe costare 9 euro e 99 l'avevo visto in altre occasioni e sto giro non c'è poi abbiamo abbigliamento bimbi e bimbe dolcioso winnie the poop bellino io voglio un figlio o una figlia solo per mettere i vestiti di winnie the poop e bellino quindi sia per bimbo che per bimba un telo neonato della disney calzettini peluche con la luce notturna molto molto carino e poi abbiamo le super offerte del weekend dove troviamo ecco questo mix di frutta questo qui che vedete a 1 euro e 69 che quello noi lo mettevamo dentro no vi sto dicendo una cavolata lo usavamo sopra la pasta la se la pasta brisella la bresaula mettevamo da portarvi a pranzo per mio amoroso perché lui mangia al lavoro oppure mettevo la bresaula qualche scaglia di grana e qui sopra questo mix di frutta guscio e un po di glassa ponti buono 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 ve lo straconsiglio e niente dai tutto sommato questo volantino anche se non ci sono cose agende cose cartopazze comunque ci sono quelle due tre cose di cibo che mi possono interessare e ditemi voi che ne pensate di questo volantino dedicato quindi anche al san valentino e che cosa magari vi stuzzica da prendere e mi raccomando scaricate l'applicazione perché è veramente utile comunque ci sono delle offerte bisogna insomma approfittarne quando ci sono giustamente niente questo è tutto ci vediamo presto un bacione grande buon weekend ciao 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 ciao